Quando l'arte da una passione diventa un successo, il pratolano Elio Lucente, poliziotto penitenziario di stanza al carcere di Sulmona e vincitore del prestigioso premio Tenco 2016, espone al Museo Barbella di Chieti nell'ambito della rassegna d'arte luce, colore, segno, sguardi e visioni dell'anima. Un poliziotto penitenziario, anche artista, che sta mettendo tutti d'accordo, critici e non, sul suo modo innovativo di vedere il mondo dei colori e significato che ne deriva da esso. In una grande cornice di pubblico fatta di artisti, critici d'arte e amici, il curatore della rassegna Massimo Pasqualone ha dato il là a una manifestazione che lascerà sicuramente un segno negli amanti dell'arte. Interessantissimi i lavori di Lucente eseguiti su Masonite, ma la sua fama sta trovando la sua massima espressione, i lavori su Plexiglas, Illuminato, che ha catturato l'attenzione di esponenti di rango, tra i quali Vittorio Sgarbio e Josef Arroy Dalì, quest'ultimo figlio di Salvador. Mauro Nardella, componente dell'esecutivo nazionale dell'International Police, si dice molto compiaciuto dell'enorme successo che il collega sta maturando. A nome di tutte le forze armate rappresentanti dell'associazione esprimo le mie più sentite congratulazioni, afferma Nardella. La gente di polizia penitenziaria ha avuto il plauso e l'ingoraggiamento anche dei detenuti del carcere di Via Lamaccio, che in queste ore non fanno altro che fare il tifo per lui.